Bella a tutti ragazzotti miei, benvenuti in questo nuovissimo video, video un po' particolare perché oggi non andremo a giocare a nessun gioco, non andremo a bestemmiare in nessun gioco ma bensì oggi siamo nella vita reale, oggi vi devo spiegare un po' di cosine, ve lo faccio molto così il video, molto scialla perché si le cose cupi non mi piacciono tanto, però spero che voi capiate il concetto principale, va bene ragazzi, va bene, madonna, perché da De Dome è scomparso da YouTube? Da De Dome non è scomparso da YouTube, bensì non ha fatto live e voi direte, perché da De non fa mai live queste serie, oh ci manca dio caro, ci sono tre motivi principali, sì, tre motivi principali, partiamo con il primo, il primo più importante è il fatto che sono pieno di compiti, cioè raga ho i compiti anche dietro di me, non ci volete dire, guardate No ragazzi, a parte tutto, ho veramente tanti compiti e interrogazioni in queste tre settimane di maggio e non sto all'incarvele però vi dico solamente che Vi dico solamente che ho ben otto compiti, contando che io faccio cinque, cinque, cinque giorni a settimana, otto giorni su quindici io ho un compito, quindi è più della metà ragazzi, per farvi capire Senza contare raga tutti i compiti che danno per casa, che quelli comunque bisogna farli perché ci sono anche altri compiti che hanno valutato Però, fatti da caso, quindi non so se utilizzati Classroom, ma su Classroom le fanno fare E allora le interrogazioni, cioè io sono stato interrogato esattamente a fisica, inglese, matematica, microbiologia, italiano e storia Quindi ragazzi, so tante cose da fare, tante cose da fare e il mio cervello era tipo, così Secondo motivo per il quale ho smesso, almeno ho preso una pausa nelle live, è per il semplice fatto che non sono più motivato a farle Perché? Come ben sapete ragazzi, da diverso tempo che, per chi magari mi segue più frequentemente, è da diverso tempo che non viene molta gente in live E io ne risento tanto, raga, ne risento tanto per il semplice fatto che è una cosa che a me piace fare, ed è vero Però a me principalmente non è neanche piace giocare con una live accesa, a caso No, a me piace far divertire le persone, e se vedo che ci sono poche persone che vengono in live O almeno sono sempre le solite, che io ringrazio ovviamente tantissimo, che mi supportano sempre Io ci sto abbastanza, ci vengo male, ecco tutto qua, per il semplice fatto che comunque è una cosa che faccio da quasi due anni E che è sempre stato uno stonks assurdo Però ragazzi, io non posso obbligare la gente a venire live, ok? C'era anche la scuola, c'erano anche i sport Non lo so, c'era anche il Fortnite, magari ad alcuni non piaceva più, e quindi parleremo dopo Però ecco, io ora non voglio dire numeri, però per farvi capire che 4, no, quasi 5 mesi fa Io accendevo la live, dopo 5 minuti eravamo in 40 spettatori E io facevo 90 aspect mentre ero in partita, nei server privati Che sapete bene che la maggior parte degli spettatori si alzano quando siamo in lobby Perché devono entrare in partita per l'appunto Io facevo 90 spettatori in partita, in live Ora 90 spettatori, i miei sogni Perché al massimo ne faccio 20, 30 Capito ragazzi? Io di questo sto parlando Terzo motivo è che Fortnite mi fa veramente schifo Vi dico la mia opinione Fortnite mi sta veramente facendo pena Ma non tanto per il gioco Tanto per le persone che ci giocano dentro Perché solo ora sto capendo veramente Quanti tryharder ci sono E quanta gente schifosa Non voi ragazzi Però quanta gente schifosa ci gioca a questo gioco Non lo so ragazzi, arrivo la sera Dico bene, facciamo live Con mille pensieri in testa di altri tipi Bene, facciamo live Andavo a accendere forte E ti viene da vomitare Ve lo giuro ragazzi Viene da vomitare Solamente guardate Al massimo su Fortnite posso entrare su salva il mondo Per non lo so Invitare qualcuno e dargli ciò che mi resta Anche se comunque uno shop Quindi ragazzi mi raccomando Entrati nello shop e trovai in descrizione Per chi interessa Non lo so Tutto qua Io Battelle Reale non ci gioco penso da Quattro giorni, tre giorni Non lo so ragazzi Da tantissimo tempo Al massimo ci ho un qualche iscritto Un qualche abbonato soprattutto Però per il resto ragazzi Non lo so Non ho più La voglia di giocare a questo gioco Mi sto appassionando ad altri giochi Durante video lezioni Io gioco praticamente a Rocket League E mi sto appassionando tanto a Warzone Presto dovrà uscire anche un montage di Warzone Sul canale Spero vi piacerà E spero vi piace anche il gioco Perché probabilmente ragazzi Non dico che mi sposto totalmente su Warzone Ma vorrei portare Tante cose diverse sul canale Ok? Quindi Warzone sarà una delle primissime cose Perché veramente mi sta piacendo tantissimo Sia per come è fatto Che è molto più realistico Sia per tutte le meccaniche di gioco Sia per tutte le cose che c'è da sapere E sia ovviamente perché Siamo nella stagione 3 E bisogna vedere ancora Un sacco di nuove cose Un sacco di nuove stagioni Detto questo ragazzi Non so quanto sta durando il video Però questi sono le cose principali Poi era uguale Ho smesso di far live La prima ovviamente Quella più importante E vi devo annunciare Che io Al giugno Smetterò Di far live Però In teoria Se lui Riesce Perché dovete dare una mano a voi In teoria A giugno Dovrà iniziare a far live Mi fratello sul mio canale Perché dovrà fare live Mio fratello Non io Perché io ragazzi Sono fuori un mese Sono fuori di casa un mese Ok? Non sotto Non sotto punti Però bensì Andrò a fare Un'alternanza scuola-lavoro Quindi andrò Presente a lavorare Anche senza virgolette Andrò proprio a lavorare 8 ore al giorno Circa A Malta Quindi Sotto Sotto la Sicilia Sotto la Sicilia E mi raccomando ragazzi Andateci lo stesso in live E gli fate compagnia Bene ragazzi Siamo arrivati a fine del video Io chiederei gentilmente A chi ne ha visto tutto Di scrivere Nei commenti Hashtag Hashtag cipolla Niente Non ci si becca Nella prossima live Scusatemi per questo video Io avrò fatto prendere un infartino Però Ormai Dovreste essere abituati A fare il prendere Con i miei infartini Con da dei domi Raga Tutto è possibile E niente Ragazzi Ci vediamo al prossimo live Dai Bella raga Un bacione Ciao ciao